Bella a tutti ragazzi, io sono Alveac e benvenuti in questo nuovo video Devo parlare a bassa voce perché stamattina li andiamo a svegliare tutti con un mega prank Non lo sanno tutti quanti dormendo, nessuno si aspetta niente Abbiamo sveglio qui il buon Sissio che ora mi terrà il telefono E vi faccio vedere l'armamento che abbiamo preparato contro di loro Venite con me Allora, ho svegliato il buon Sissio Lui lo risparmiamo, gli è andata bene perché fa il cameraman Però ci si, c'è, 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 c'è Cazzo Abbiamo risparmiato il buon Sissio stamattina che l'abbiamo svegliato perché mi serviva un cameraman E ci siamo armati di soffiatore e con la bacinella perché non vogliamo allagare la casa però Fare un bel dispettino, quindi riempiremo questa di acqua, gliela lancieremo addosso E col soffiatore li svegliamo Voi cosa ne pensate? Ditemelo qua sotto se ne volete poi altri scherzi Venite con me Allora, come vedete, riempiamo questa qua di acqua Ok, poi andiamo giù con il buon Sissio che mi darà una mano Oh, dimmi basta Sissio Vai, vai, vai Com'è, troppo? Va bene, va bene Va bene così? Sì No, è foca Vai Ecco Così va bene Oh, mo si è caduta dalle scale però è comino che stai Che figura di merda Che figura di merda Sì, andiamo piano piano Sissio Seguimi Sissio che la c'è Mi hai aperto la porta Non lo so Tu fai No, mi bagno Meglio quando esce dal bagno che lo fanno Oh Il primo che facciamo è ziplito Va bene Ok Ok Ma perché ha lasciato ci ha batte fuori? È una stasera No, mi bagno Oh No No Viro No Oh Buongiorno Buongiorno Beh che l'abbiamo? Sissio È una stessa Sissio E' una stessa C'è un po' scappa sisio oh giuro eh non giurare non giurare che parlo di fare e il primo ce l'abbiamo ma il mocio che l'ha sentito però gli altri non lo so non sono pesanti allora andiamo da te o da us andiamo da us andiamo 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 e non lo so non mi lasciamo stare il casino che c'è non mi lasciamo stare il casino che c'è che puzza ti ammazzi per il tuo se vuoi che ti risparmi la mattina devi venire qua muoviti ti vuoi poveri ma è poco agli altri ma è il fototipo no 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 ma è il fototipo ma c'è l'acqua ma ti amo ma che caso c'è l'acqua è il pesce vedi qua adesso non ho fatto questa cosa qua la mattina devi risparmiarla oh la mattina devi risparmiarla si c'è l'acqua non c'è l'acqua c'è l'acqua c'è un pesco ok dai Fogga! 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 bravo aspetta t'aiuto t'aiuto bastardo mi ha rimpito tutto il resto vuoi vedere? perchè è una pianta? perche è una pianta? è un po' di più è un po' di più ha un po' di più guarda guarda porca puttana guarda 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 secondo me adesso è carabinato teniamo veloce mica il telefono vieni qui sta gocciolando è acquatico fidati da sott'acqua che no dai zifra così però no che cazzo poi siamo al prossimo guarda che evapora cioè il cosiddetto doveva andare a take note però la take note deve fare bene perché allora con te abbiamo aggiunto anche acqua e c'è anche cose belle in realtà però adesso a te con te abbiamo aggiunto un pomodoro un po' più con voi hai capito io uova oh se mi dai no 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 ho freddissimo se mi dai una mano ti riscarmi le mattine sennò poi sarà guerra e quando è guerra è guerra ora oi 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 c'è il lago ma tra ma da te non c'è niente ma tra ma come non c'è niente c'è il lago c'è la presa dell'iPhone c'è poco da te, sei venito da me e tocchi il leggo fa guardate ma che bebe che svegliate te non frega un cazzo no se ne accorge poi allora mi assistite? facciamo se non mi assistite vi vede guida tutti i giorni vi svegli ciò che fa? andiamo andiamo io voglio andare a dormire ragazzi non so manco di chi? che sono fra? che tu sono? sei a mezza del mattino eccolo eccolo comunque questo non è mezzo dormire fa schifo ma se tu che fai cacare non ti vedi presto non è che cacare il mattino c'è l'olore in bocca dopo che ti lavi i denti con l'alito pur solito chiaramente perché parla l'olore in bocca ce lavi i denti con l'alito non mi mettiamo lì qua non mi fai perché arrabbiato? non mi fai non mi fai cosa? tu mi laviate di chi è questo? non so mio che scherzo non vuoi dire 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 mentre se c'era tu mi lavi i denti mi metti i denti e facciamo via magari si fa male appunto è tutto mio io lo ce l'ho fatto ma tu l'hai fatta a me? eh sì oh i bzzzuli mi hanno detto così dopo averci risveglio così mi hanno minacciato ma così scusate oh 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 ma così per inviare il mince raga no no non toccarlo asciugalo oh raga qua si vuole la punta oh pericolosissimo ma 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 dopo te che cosa lo fanno a sissi o domani a sissi o domani perché si fa il tuo e lo fai guardia non ho capito che cosa mi fa ti ha la sua parte in testa ma mi ha dato che cosa mi fa buon appetito Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Perché hai arrabbiato? Guarda che fai in culo, Sì, 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 sì. Ma il nostro, ci deve avvertire di sapere! È incazzato? È anche z wanna... Io non capisco perché fanno questi scherzzi. Guarda, tec, guarda cosa mi hanno combinato. Oh, che bucciato? Che bucciato! Guarda cosa mi hanno combinato te. Guarda, guarda. Guarda che bagnato! È tutto il merito loro, guarda. Loro due, fra. Tutti loro due. Sissio, dipendimi. In dettaglia, Sissio. Attacca, Sissio. Tira il telefono, Sissio. No, no, fra, non è così. Non è usato a farlo. Ho preso! Amma, amma, amma. In bagno, in bagno, in bagno. No, no, qui dal balcone. In balcone. Non ho sentito, l'ho sentito. Devi stare dalla mia parte, fra, devi credermi. Apri il balcone. Mi devi credere, fra. Aiutami, fratello, non mi a parlare. Passami. No, fuori, dai! È schifo, ma che è tutta questa roba? Ma come cazzo? Sissio! Sissio! Non è legale questa roba, vero? Ok, è legale. Oddio! No! 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 A posto! A posto! Sono frizzante! Ma non è che con l'acqua frizzante crescono i capelli? Permesso? Non è che mi viene a dire... È colpa nostra! Oh, bro! Se non lo fai! Se non lo fai! Se non lo fai, lancia! E tu mi devi dare quello perché sono anche un po' tutto! No! 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 Che c'è tutto bagnato! E tu sei tutto bagnato! No! Dai fuori! Andati fuori! Va bene! Allora... Quanto fai... Allora ragazzi siamo a svegliere! Allora ragazzi siamo alla fine dello scherzo, li abbiamo svegliati tutti e ci vediamo alla prossima! Dovai cazzo ! Ci vediamo alla prossima... allora sei deficiente allora ragazzi lo scherzo è finito ci vediamo al prossimo video lasciatemi qua sotto scritto se vi è piaciuto questo video e che cosa dobbiamo aggiungere la prossima volta la prossima mattina ricordatevi seccatore, acqua e il prossimo ingrediente lo scegliete voi scrivetelo qua sotto adesso lo uccido ciao ragazzi